Ciao a tutti fringuelli, con l'arrivo dell'autunno, ahimè, arriva anche il brutto tempo, le giornate si accorciano ed è sempre più difficile uscire in bicicletta, ma noi da buoni fringuelli non ci disperiamo perché sappiamo che esistano i rulli, quindi allacciatevi le cinture perché vi porterò a scoprire i migliori rulli presenti sul mercato nell'anno del signore 2021. Andiamo. Il primo rullo di oggi è Elite su Ito, un rullo che ormai conosciamo tutti, in vendita su Amazon a 569€. Il tipo di azionamento è diretto, potenza massima 1900W, pendenza massima simulata 15%, pesa 14,5 kg, ha un volano da 3,5 kg, la cassetta del pacco pignoni è inclusa e ha un rumore di 73 dB. È un prezzo molto competitivo, ma la cosa che più mi stupisce di questo rullo è che è pronto all'uso, vi arriva, lo tirate fuori dalla scatola, ha già la cassetta col pacco pignoni inserito, quindi lo attaccate alla presa della corrente per alimentarlo, lo configurate in 5 minuti e siete pronti per pedalare. Tra l'altro con la soluzione plug and play è ancora più semplice configurarlo. Nella confezione sono inclusi anche gli adattatori per perno passante da 142 mm. Per quanto riguarda la qualità della guida della simulazione è comunque ottima, soprattutto se si considera che il suo volano non è tra i più grandi in circolazione. Saliamo leggermente di prezzo con il Saris H3 venduto su Amazon a 899 euro, quindi un prezzo tutto sommato più alto rispetto all'Elite Subito, ma che però ha delle caratteristiche molto ma molto interessanti. Ha lo stesso tipo di azionamento diretto, però attenzione la potenza massima questa volta arriva a 2000 watt, pendenza massima simulata 20 watt, peso complessivo 21,3 kg, volano 9 kg, però non ha la cassetta inclusa ed è comunque molto meno rumoroso rispetto all'Elite Subito, tant'è che il rumore registrato è di 61 decibel. La sensazione di guida anche in questo caso è molto buona perché il volano da 9 kg contribuisce a un'esperienza molto realistica, i suoi 21.3 kg rendono tutta la piattaforma molto ma molto stabile. Cari fringuelli è arrivato il momento di mettersi la mano al portafoglio, sfondiamo infatti i 1000 euro con il TAX Neo 2T, dal valore di 1199 euro disponibile su Amazon. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, anche in questo caso abbiamo un tipo di azionamento diretto, potenza massima erogabile 2200 watt, pendenza massima simulata 25%, peso 21,5 kg, il peso del volano in questo caso non è indicato perché il volano è un volano virtuale, andremo a vedere meglio che cosa è. Non c'è la cassetta inclusa, rumore registrato a 20 km rari, 61 decibel. La cosa importante è che il Neo 2T utilizza una disposizione di magneti molto particolari per creare quello che abbiamo definito come un volano virtuale. E questo offre probabilmente la miglior sensazione di guida tra tutti i rulli presenti sul mercato. Proseguiamo con un altro rullo molto ma molto conosciuto, il Wahoo Kicker Smart versione 2020. In vendita su Amazon, anche qui si sfondano tranquillamente le 1000 euro, anzi per il momento è quello più costoso, 1209,98 euro. Allora, anche in questo caso abbiamo un tipo di azionamento diretto, potenza massima 2200 watt, pendenza massima 20%, peso 21,5 kg, volano 7,25, cassetta inclusa sì, si hanno dato, Jesus Christ, rumore 61 decibel. Anche in questo caso parliamo, visto il prezzo, del top di gamma di Wahoo e offre una sensazione di guida anche in questo caso molto buona grazie al volano relativamente grande. Non è tra i più pesanti, ma comunque con i suoi 7,25 kg possiamo dire che non solo la qualità di guida, la sensazione di guida è buona, ma è anche silenziosa. Anche in questo caso siamo a 61 decibel registrati a 20 km orari. Rimaniamo in casa Wahoo con il Kicker Core leggermente più economico e al contempo leggermente meno prestazionale. Questa volta abbiamo un rullo da 809,98 euro, anche questo prezzo Amazon, ad azionamento diretto, potenza massima 1800 watt, pendenza massima simulata 16%, peso 18 kg, volano da 5,4 kg, non è inclusa la cassetta, rumore 70 decibel. Per un prodotto da 809 euro abbiamo comunque un buon rullo, il cui errore nella fase di rilevazione della potenza va da più o meno 2%, anche in questo caso non è inclusa la cassetta pignone. Diciamo che questo rullo può essere comprato senza nessun tipo di rammarico da tutti quei ciclisti che hanno come tetto massimo esplosivo i 1800 watt e si accontentano di una pendenza simulata del 16%. Pari fringuelli è il momento dell'evergreen, ovvero l'elite diretto XR, venduto su Amazon a 899 euro, quindi un prezzo tutto sommato in linea con i suoi concorrenti, però nasconde molte caratteristiche interessanti. Innanzitutto anche questo è il razionamento diretto, potenza massima 2300 watt, pendenza massima simulata 24 kg, peso 15,8 kg, volano 5,1 kg, cassetta inclusa sì. Allora, in questo caso abbiamo un rullo che non costa eccessivamente molto ma che promette grandi prestazioni. L'unico aspetto negativo a mio modo di vedere è il peso, che sì, 15,8 kg non è un peso che garantisce enorme stabilità, soprattutto quando si spinge a 2300 watt e il volano da 5,1 kg comunque è un po' sottodimensionato. Ad ogni modo è uno dei rulli più venduti almeno qua in Italia e cosa da non sottovalutare che può sembrare una sciocchezza ma anche in questo caso abbiamo la cassetta inclusa con lo Shimano 105 a 11 velocità. Torniamo in casa Tax con il Flux S, non è il nome di un farmaco anti-influenzale ma è il rullo intelligente, abbordabile anche in questo caso per il prezzo che la casa Tax ha prodotto. Stiamo parlando infatti di uno Smart Trainer da 564 euro in offerta su Amazon perché altrimenti il suo prezzo è di circa 600 euro. Anche in questo caso come vedete ha una linea molto futuristica, a me piace questo tipo di linea. L'azionamento è diretto, la potenza massima è 1500 watt, pendenza simulata 10%, non è il massimo. Peso 23,6 kg quindi ottimo per la stabilità, volano da 7 kg, cassetta inclusa no, ci mancherebbe che qualcuno ci regali qualcosa. Rumore 60 decibel quindi fino adesso è il rullo più silenzioso. Il Tax Flux S potrebbe essere il miglior rullo come rapporto qualità prezzo se non avesse l'inconveniente che non è possibile piegarlo per riporlo. Le gambe sono semplicemente fissate in posizione con dei bulloni quindi non è un problema se hai un garage o una sala giochi in casa ma se devi riporlo in un ambiente molto piccolo ovviamente non è molto comodo. Quindi questo è l'unico Neo. Bene ragazzi ho fatto una sudata tremenda per correre come un pazzo sopra questi rulli per farveli vedere. Sono tutti disponibili online quindi non dovrete uscire di casa per ordinarli. Detto questo fringuelli direi che è tutto fatemi sapere quale tra questi rulli sceglierete per l'inverno e per l'autunno 2021-2022. Per oggi quindi è tutto come sempre ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima. Ciao fringuelli.